donne al bivio su rai 1 prime visioni su temi di grande attualità l'amore per loro era tutto quando un amore così finisce tutto cambia tutto diventa diverso gridi tutti i giorni perché sono distrutta dalla stanchezza dopo il successo dell'ombra della sera un nuovo film di cinzia th torrini l'aquila della notte premio per la miglior regia ad umbria fiction 93 è un debito li ho persi a gioco l'hanno presa solo per mettermi paura non le faranno niente è meglio coinvolgere la polizia e cosa serve allora cento milioni elena sofia ricci stefan france abbiamo perso nostra l'unica cosa che abbiamo fatto insieme da un bel pezzo di nuovo insieme per ritrovare tutto la loro piccola quel grande amore forse in prima tv l'aquila della notte rai 1 mercoledì andrà bene dimmi che andrà bene se anche ti dovessi perdonare tra cent'anni non mi crede vedremo cosa possiamo fare per aiutarla a ritrovare la piccola molto graziosa è a quanto dicono per la piccola molto grazie a tutti